La loro ideologia di questo governo, del governo Meloni, sta sostanzialmente danneggiando dei bambini e delle bambine che sono di serie B nel nostro paese. Questo è inaccettabile. La seconda cosa, io continuo a sentire questo governo e Giorgia Meloni parlare del tema della natalità e siamo tutti d'accordo che il tema della natalità è prioritario, ma loro dovrebbero guardarsi la loro coscienza e interrogarsi sul perché hanno varato un decreto precarietà in cui condannano donne, nello specifico, e giovani a essere a contratti determinati, a insicurezza, a incertezza, a precarizzazione. E allora chiediamo a Giorgia Meloni, ma una coppia di giovani, precari, sfruttati, con stipendi da fame, ma come mette su famiglia che neanche riesce a ottenere un mutuo mostrando la sua busta paga? Questo ci aspettiamo. Salario minimo, interventi per, come aveva fatto col decreto di dignità, per dare dei posti di lavoro fissi, strutturali e tornando al tema di oggi, che siamo qui a Torino, Giorgia Meloni deve capire che esistono in questo paese famiglie arcobaleno, le piaccia o non le piaccia, e che questi bambini devono essere tutelati. Oggi non lo sono. Il Movimento di 5 Stelle ha presentato sia alla Camera, mia prima firma, sia al Senato, con la collega Maiorino, una proposta di legge che risolverebbe la questione, quindi ovviamente riconoscimento, la questione del matrimonio egualitario e quindi noi facciamo la nostra battaglia. Però io non vorrei rientrare negli steccati della politica, perché quello che sta facendo la destra è più grave. Ripeto, qua non si sta discutendo dell'utero in affitto, non è oggetto di discussione, lo ribadisco, è vietato in Italia. Devono aprire gli occhi, guardare questi bambini in faccia e assumersi la responsabilità del fatto che sono discriminati oggi. E io credo che sia inaccettabile, non è una questione di destra e sinistra. Giorgia Meloni è donna, madre, cristiana? Lo si anche con questi bambini.